E qua c'è una bella manina che è piena e piena sta a distruggere la montagna guarda qua, è tagliato, è tagliato, si va qua, un altro albero tagliato, vedi? Eccolo qua, un altro sta tagliato qua sotto, questo sta spiegando la montagna ecco un altro taglio, guarda quanto è lungo questa acqua da qua quant'è lunga qua? 10 metri, sale sopra, 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 sopra vedi, vabbè come prosegui sopra, vedi? qua bisogna fermarla, qua piano piano, le piante non ci sono più poi quando piava cominciano ad esserci gli smottamenti vedi? questa che la c'è cambina, piano piano e viene tanti che li vengono a controllare ma che brava persona questa qua, guarda là, come taglia ma questi sono anni che taglia, tagliata qua, tagliata qua un'altra pianta sta tagliata là e come abbiamo certe brava persone qua ma dico io, una zona come questa sta sotto la montagna, ad alto rischio le crolli, i smottamenti qua un'altra pianta vecchia e tutto qua, adesso è un'altra pianta vecchia Grazie.